salve a tutti da giuseppe ragazzino siamo qui con nokia n8 e nokia lumia 710 vediamo adesso di realizzare il solito video di confronto ovviamente in questo caso realizzato di giorno come potete apprezzare la reattività con la luce della camera di 710 è maggiore rispetto appunto a quella riscontrata in assenza o quasi di luce quando presente abbiamo fatto la comparativa di sera vedete anche i dettagli per esempio di alberi in questo caso appunto siamo su una piatta notate la differenza è in questo caso decisamente più lieve notate anche in caso per esempio di gestione di zone in ombra o particolarmente illuminate abbiamo una reattività alla quantità di luce decisamente valida possiamo quindi decidere con estrema facilità quale soggetto andare a inquadrare e con facile gestione portiamo a casa un buon risultato ovviamente parliamo di alta qualità come filmato sia in un caso che nell'altro come potete apprezzare il 710 si comporta bene in condizioni quindi di luce standard la demo termina così io vi saluto vi invito a seguirci attraverso sito web formobiles.info e vi invito a seguirci anche attraverso i canali social che abbiamo attivato per voi siamo su twitter facebook youtube e dailymotion se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quando andiamo a pubblicare per voi ora è tutto la demo è conclusa vi ringrazio ci vediamo online un saluto presto da giusto interduttivi